Ohi! I grazie non si vedono proprio! Brava, non è lì! Nel sì, però fa ancora male! E vabbè, un poco di pazienza! Dovete considerare una moglie! Quella vi ha visto sul suo letto e non ha capito niente più! Si è dimenticata del servizio fotografico! Si è tosta gli occhiali! Eh, non ce l'ha vista in più! Eh, no no, signora Bella! Ci ha visto benissimo, per poco non mi ammazzava! Ah, l'amore! Cosa fa fare l'amore? Eh, no, signori, non è l'amore! E' lo currivo della corna. Come? Perché sei troppo difficile da spiegare. Eccomi. Finalmente sei tornato. Ma dove sei stato? A comprare donna modella. Hai fatto metà del tuo dovere. Ma sì. Siamo tornati alla normalità. Si è regolato bene il talismano, me ne faccio fare uno solo per la scuccia. Vediamo se è regolato bene. Bonjour. Ah, hai messo gli occhiali per me? No, per toccare la modella. Per dire, ma chi ne è roba zion? Ma cosa fa, cosciò? Fate per fonte. Vite un buon fan. Qualsiasi cosa hai detto a te è assurdo. Bravo a capir. Sei in...